Inizia domani sera a Lanciano la terza edizione del Festival Jazz Tradizionale promosso dall'Assessorato Comunale alla Cultura. Due anteprime nazionali e un CD Live sono le novità di quest'anno. Domani sera sul palco saliranno gli Italian Hot 5 con Fabrizio Bosso, Gianluca Galvani, Luca Mannuzza, Renato Gattone e Gianluca Perasole che proporranno un incontro tra il jazz tradizionale dello stile di Xiland con quello più moderno del Bivoc. Un'idea del direttore artistico Renato Gattone, contrabassista jazz originario di Altino ma romano d'adozione. Il concerto sarà registrato per la produzione di un CD Live che verrà distribuito da Citravini, main sponsor del Festival, insieme a Sangritana, ai suoi clienti nel mondo. Inizio concerto alle 21.30, Telemax offre la diretta TV sul canale 12 del Digitale Terrestre per Abruzzo e Marche Sud e canale 699 per il Molise e il Gargano. Buona visione!